Cos'è che ha dato la gente del Salento all'inizio a non credere a quello che era davanti ai propri occhi? Effettivamente quando ho cominciato a scrivere questa storia, io sono partito dall'idea di verificare quelle voci, quelle teorie che c'erano, l'idea appunto che ci fossero degli scienziati che avevano diffuso per sbaglio o per colpevolezza questo batterio, perché era una storia molto interessante, era quasi da un film thriller, però non ci ho poi messo molto a capire che le cose non stavano così. Dal 2016 sappiamo con certezza che Xylella crea questa malattia incurabile, ma già prima, a parte che era prescritto per legge il contenimento di quel batterio, ma anche il quadro scientifico a quel punto era già abbastanza chiaro e diceva che era prioritario cercare di fare in modo che non si diffondesse. Nonostante fosse sotto gli occhi di tutti, c'è stato un grande rifiuto che sicuramente non ha agevolato anche poi il compito delle restrizioni che pure hanno le loro responsabilità.